Come può il blended migliorare la didattica all'interno dell'università? Grazie, il blended permette di ottimizzare la didattica, si tratta di ridurre un po' la presenza frontale in classe degli studenti per fare delle attività a casa, quando e dove vogliono. Questo dà più flessibilità agli studenti, permette di fare cose che in aula non si possono fare e in aula di valorizzare quel tempo speso dagli studenti per venire fisicamente lì per fare qualcosa che sia diverso dall'ascoltare una conferenza passivamente, ma dal mettersi a lavorare proprio sulle cose viste magari a casa prima di venire a lezione. E quindi dialogare con gli studenti, farli lavorare e renderli attivi perché si sa che la conoscenza non nasce tanto guardando un altro che sa fare le cose, uno non impara a suonare il pianoforte guardando il pianista, impara facendo. Quindi tutta questa parte noi la lasciamo tradizionalmente agli studenti da soli, è la parte più difficile. Col blended invece possiamo ridurre la necessità di aule, essere più sostenibili, meno trasferimenti casa-lavoro e fare una didattica di maggior qualità. Noi stiamo investendo a Padova su questo con un progetto pilota che ha coinvolto 200 docenti e crediamo che questo possa rappresentare una soluzione sostenibile per il futuro. Solo le università pubbliche possono fare questo, cioè prendere il meglio dell'online e il meglio della didattica in presenza. Lei ritiene che ci sia più resistenza da parte degli studenti o da parte dei docenti a questa metodologia didattica o ritiene che non ci sia resistenza, che siamo pronti ad attuare? Questa è una bella domanda perché le resistenze ci sono dappertutto, i docenti soprattutto perché richiede moltissimo lavoro, più lavoro di una lezione chiaramente chiave in mano, dove la preparazione è semplicemente cosa faccio domani, l'argomento tal dei tali. Qui invece si tratta di progettare proprio, imparare a progettare, quindi bisogna passare attraverso anche una formazione. Anche se questo può essere fatto a piccole dosi. Gli studenti bisogna prepararli, bisogna renderli responsabili, fargli capire che i risultati saranno molteplici per loro e molto interessanti, però che apparentemente richiede più lavoro, più responsabilità. Se non si dicono agli studenti come funziona e che cosa aspettarsi, si rischia di avere un cortocircuito. Grazie. 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 Grazie.